L'incidente nella mattinata di domenica 18 agosto, poco dopo le 11, in via Bayro a Dallier. Coinvolte due vetture, una Fiat Panda con a bordo due donne, una giovane e una pensionata, e un Opel Crossland con sopra una famiglia, genitori con un bimbo sul seggiolino. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenute le amburanze della Croce Rossa di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Ferite le due donne a bordo della Panda che, dopo le prime cure, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Ivrea, illese alla famiglia che si trovava sull'Opel. La dinamica è il vaglio dei carabinieri di Allier, giunti sul posto per i rilievi del caso. Il tratto è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario per permettere al 118 di operare. Grazie a tutti!